Dopo giorni di voci e ipotesi, il mistero potrebbe essere stato chiarito. Il superyacht che ha avuto gli occhi addosso di tutto il mondo sarebbe di Eduard Yurevich Kudanaitov, l'oligarca miliardario, molto vicino al presidente russo Vladimir Putin. Non figura tuttavia nella blacklist dell'UE. Sarebbe lui l'uomo del giallo, il proprietario effettivo dello Sheherazade, il superyacht di 140 metri ormeggiato a Marina di Carrara, quello che il New York Times sospettava fosse proprio del capo del Cremlino. Kudanaitov non risulta essere sotto la lente delle sanzioni internazionali, sfociate dopo lo scoppio del conflitto ucraino-russo. Ex presidente di Rosneft, la compagnia petrolifera di proprietà in maggioranza del governo russo, l'oligarca è adesso proprietario della OJSC Independent Oil & Gas Company. Il magnate è stato accostato al presidente russo Putin perché nel 2000 ha diretto il quartier generale elettorale nelle regioni degli Urali. Niente sanzioni per il momento, ma nel 2017 due sue società erano state sanzionate dagli USA per aver violato l'embargo e aver venduto petrolio alla Corea del Nord. Oltre allo yacht da 700 milioni di euro, il magnate russo ha altri interessi in Italia, una villa portofino acquistata per la modica cifra di 25 milioni di euro.